Iniziamo il video con il treno che passa, tanto per ricordare i vecchi tempi Salve a tutti, benvenuti in questo video un po' speciale Un po' speciale perché diciamo che non mi faccio vedere da un po' di tempo su questo canale Però lo faccio semplicemente per un motivo Perché vorrei esprimere il mio supporto a NoColdiz Perché molti di voi lo sanno, lo seguono anche sui social Praticamente il suo canale è stato chiuso, bloccato per copyright Ed è una perdita, una perdita per la community Di cui non faccio più parte ma che comunque ha fatto parte per tanti anni E non si sputa sul piatto dove si mangia e dove si è conosciuto un sacco di gente bella Così come NoColdiz stesso che mi ha anche aiutato molto quando facevo YouTube Poop E sinceramente mi dispiace tanto vedere un canale come il suo che sparisce storico comunque per questi video E soprattutto una piattaforma o un sito come YouTube che non solo piscia sulle proprie fondamenta Sui video che lo hanno in un certo senso portato avanti Perché in Italia NoColdiz sono dei canali più famosi da tanto tempo Cioè diciamoci la verità E anche il fatto che comunque ci guadagnano e non sanno minimamente tenere conto delle leggi Che tutelano ragazzi che fanno parodie, che fanno montaggi a scopo satirico E queste comunque cose che non sto a dire io perché ci sono altre sedi Però ragazzi facciamoci sentire Per quanto possiamo cerchiamo di stare vicino a NoColdiz E mi dispiace comunque che si debba arrivare a queste situazioni Anni di lavoro anche perché comunque tempo che ha utilizzato per fare video E tempo che si spera possa continuare a rendere e che facciano tornare il canale E niente vi saluto Un saluto a NoColdiz Per quanto possibile cerco di far capire magari a chi segue me e non segue NoColdiz Probabilmente nessuno però si sa mai Niente ci vediamo mai Tornerai a fare video? No Ciao